Ben trovati amici telespettatori con una nuova puntata della nostra rubrica nutrizione e benessere. Nella puntata di oggi parleremo di come rimettersi in forma dopo il periodo natalizio e quindi dopo le classiche abbuffate che questo periodo porta con sé. In effetti dopo il Natale spesso ci si ritrova con più di un chilo in più che tendiamo poi a non perdere e quindi si va ad accumulare poi nel corso del tempo. Come fare per rimetterci in forma? Innanzitutto tornando quindi alle regole di quella che è una buona e sana alimentazione. Quindi ripartendo diciamo tutta la giornata in cinque pasti, quindi tre principali, colazione, pranzo e cena e due spuntini. Questo perché ci permette di avere una migliore efficienza metabolica, quindi di attivare un pochettino il metabolismo e di arrivare ai pasti principali con meno fame, quindi evitando gli attacchi di fame. L'errore classico da non fare è quello ovviamente di praticare il digiuno. Questo perché dopo un periodo iniziale in cui si ottiene qualche beneficio andiamo solo a bloccare il metabolismo e quindi senza più una perdita di peso, oltre senza considerare ovviamente anche lo stress psicofisico che il digiuno comporta. Un altro consiglio è quello di non eliminare nessun alimento particolare all'interno delle diete, penso particolarmente ai carboidrati che di solito sono la prima cosa che si tende ad evitare. Ma anzi bisogna dare loro il giusto spazio a seconda ovviamente delle proprie necessità, prediligendo magari quelli che sono i carboidrati cereali integrali, quindi pane, pasta e riso integrali. Questo perché hanno un basso indice glicemico. Poi ovviamente bisogna aumentare quello che è il consumo di pesce, soprattutto pesce azzurro, le carni bianche, evitando invece tutti quelli che sono i formaggi, gli insaccati e i condimenti grassi. Oltre a questo è altrettanto fondamentale bere, quindi acqua che è quantomeno tra un litro e mezzo e due litri di acqua al giorno, preferibilmente naturale, evitando invece quelle che sono tutte le bevande cassate, zuccherate e le bevande alcoliche. Ovviamente incrementare l'acqua perché ci aiuta ad avere un maggiore effetto diuretico e drenante. Possiamo anche bere delle tisane, questo perché un po' come per l'acqua ci aiutano comunque anche ad aumentare l'effetto disintossicante e depurativo. Penso per esempio al tè verde, una tisana al finocchio, alla betulla con un maggiore effetto diuretico. Così come anche possiamo la mattina bere un po' di acqua tiepida, magari con un po' di limone, questo serve anche un po' per velocizzare il transito intestinale, quindi ci aiuta anche ad eliminare le tossine. E infine ovviamente è altrettanto importante anche l'attività fisica, quindi per chi ha la possibilità di iscriversi e frequentare una palestra, ma anche semplicemente fare uno stile di vita più attivo, quindi con delle camminate e delle passeggiate. E infine l'ultimo consiglio, quello che possiamo dare è che chi ha necessità di perdere peso è bene che si affidi sempre a dei professionisti, perché perdere peso è un qualcosa da non prendere con leggerezza, perché riguarda sempre lo stato di salute della persona. E quindi chi ha questa necessità è bene che si affidi sempre a dei professionisti abilitati, qualificati, come possono essere il nutrizionista, il dietologo, il dietista, perché solo queste figure sono in grado di elaborare un piano dietetico che sia adatto alle necessità di ognuno. Quindi non facciamoci abbindolare da quelli che sono i programmi miracolosi che leggiamo su internet, sulle riviste, ma affidiamoci sempre a delle persone qualificate. Grazie a tutti.